San Gaspare Bertone, nacque a Verona il 9 ottobre 1777 da famiglia di tradizione notarile travagliata da dissesti finanziari. Vivace ed intelligente, a 18 anni cominciò a frequentare i corsi di teologia in seminario come alunno esterno. Subito dopo l'ordinazione sacerdotale si dedicò ai malati e ai sofferenti ma in particolare operò per l'educazione dei giovani. Nel 1802 aprì presso la chiesa di San Paolo una corte mariana dove oltre all'insegnamento religioso si svolgevano attività culturali e sociali. Padre spirituale di molti sacerdoti e santi fondò una congregazione di missionari, i padri stimmatini. La sofferenza e la malattia lo accompagnarono tutta la vita fino al 12 giugno 1853, giorno in cui a Verona corse una voce e morto il santo.